coronavirus niente panico a calmare i suoi cittadini e stefano bellaria sindaco di somma lombardo si tratta certamente di un virus influenzale molto aggressivo che in alcuni casi è capace di produrre complicazioni respiratorie acute ma che solo in soggetti particolarmente vulnerabili può condurre alla morte dunque afferma il sindaco è indispensabile agire con responsabilità riducendo le occasioni di contagio e attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del ministero della salute ma senza farsi prendere dalla paura io dico che la parola d'ordine per poter affrontare insieme questa fase di difficoltà fiducia e anche collaborazione fiducia nelle istituzioni che hanno emanato appunto un'ordinanza che serve a regolamentare tutto quanto accade all'interno di regione lombardia e anche fiducia nel nostro sistema sanitario nazionale che un'eccellenza a livello internazionale e collaborazione ci viene chiesto ciascuno di noi di fare la propria parte di poter affrontare qualche sacrificio me ne rendo conto ma questo serve soprattutto come dire ad aiutare le persone magari più fragile e più anzane che sono quelle che corrono qualche rischio in più per quanto riguarda i cittadini sommesi la collaborazione che chiediamo è quella ad esempio di rivolgersi agli uffici comunali solo se sia veramente necessità di farlo il fatto di rinviare magari di una settimana o di qualche giorno una pratica credo non cambi la vita però ripeto per le urgenze per le emergenze non preoccupatevi gli uffici comunali sono attrezzati per quanto riguarda invece la diffusione delle informazioni vi prego di basarvi solo sulle informazioni ufficiali quindi tenere monitorato magari il sito internet la pagina facebook del comune di somma lombardo o quella di regione lombardia non lasciamoci come dire trarre in inganno da tutte le informazioni che circolano in rete perché purtroppo la maggior parte delle quali non sono attendibili non sono verificabili poi chiedo naturalmente se doveste avere necessità di farlo mi raccomando di contattare il numero verde messo a disposizione da regione lombardia l'ottocento 89 45 45 lasciamo per cortesia il centro dolci solo alle vere emergenze non mettiamo in difficoltà a chi può avere veramente bisogno per quanto riguarda invece l'aeroporto della malpensa la situazione è costantemente monitorata dal direttore dell'aeroporto da enac e dalla prefettura di varese che sono i soggetti competenti ripeto abbiamo fiducia facciamo insieme qualche sacrificio ma ci aiuterà a diventare ancora più forti più vivi come comunità che sa affrontare le difficoltà insieme sorrisi che nuotano la piscina comunale di somma lombardo inaugura il suo nuovo sollevatore automatico che da oggi permetterà davvero a tutti di entrare in acqua in completa sicurezza e in libertà l'attrezzo costato 8 mila euro è stato acquistato grazie a sea e al suo social challenge attraverso il quale ogni anno selezione finanzia progetti di carattere sociale tra le province di milano e di varese in prima linea anche l'associazione freewheels onlus che ha concretamente presentato il progetto sostenuta e affiancata dall'amministrazione comunale grazie al social challenge di sea abbiamo potuto regalare a somma lombardo alla comunità sommese e la piscina comunale un sollevatore automatico che permetta alle persone mobilità ridotta di entrare in vasca in sicurezza abbiamo voluto andare anche oltre e con la disponibilità di spesso e di spesso sport regaleremo a tutte le persone a mobilità ridotta e quindi anche alle loro famiglie una serie di ingressi per la piscina in modo tale che tutti possano usufruirne viene a mancare un ulteriore barriera architettonica che rendeva inaccessibili le vasche della piscina mentre la piscina era già accessibile come piano vasca ma le vasche per appunto chi è diversamente abile non erano accessibili completamente in questo caso invece lo saranno perché comunque l'elevatore darà la possibilità a tutti anche chi ha bassa funzionalità di poter entrare in acqua e uscire dall'acqua in tutta sicurezza in completa autonomia. Una grande soddisfazione dunque che però non cancella completamente la delusione il nostro progetto iniziale era quello di rendere accessibili la sala fallaci e la biblioteca afferma Pietro Scidurlo ma le direttive estremamente rigide e proibitive della soprintendenza belle arti e paesaggio hanno bloccato i lavori. Eravamo partiti con il forte desiderio di rendere accessibile la sala fallaci e la biblioteca comunale e con questo avevamo anche il supporto che è rimasto sia del comune di Somma Lombardo che dell'istituto comprensivo Leonardo da Vinci che dell'istituto Ponti per Geometri. Però la paesaggistica non ci ha dato in nessun modo autorizzazione a farlo come era previsto. Purtroppo ancora una volta la normativa o l'applicazione sbagliata della normativa ha vinto sulla vita e questa è una grandissima sconfitta per tutti quanti. Il progetto è solo rimandato rassicurano il sindaco Bellari e l'assessore Piantanida. Sarà il comune a prendersi presto in carico i lavori per rendere accessibili questi due importanti luoghi della cultura cittadina. Piantanida. Piantanida. Piantanida.